Passiamo all'interrogazione question time 1086, assunzione personale presso l'azienda ospedaliera di Treviglio Caravaggio, primo firmatario del consigliere Violi del Movimento 5 Stelle che ha facoltà di illustrarla per due minuti e risponderà poi per la giunta dal vicepresidente Mantovani. Grazie presidente, il primo dicembre è stata assunta la dottoressa Stigliano all'azienda ospedaliera di Treviglio con un contratto a tempo indeterminato da 36.569 euro lordi all'anno e il primo febbraio esattamente dopo 60 giorni se ne è andata e ha chiesto il trasferimento. Tra le altre cose la dottoressa Stigliano aveva detto che essendo troppo distante la sua abitazione dall'azienda ospedaliera avrebbe chiesto una volta ottenuto il posto il trasferimento quindi si era già a conoscenza di questa situazione e per assumerla il direttore generale aveva violato addirittura la legge nella fattispecie del comma 2 bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001. La dottoressa Stigliano era già la dipendenza dell'economato dell'azienda di Treviglio sotto la guida di Paolo Grazioli il quale ha caddeggiato la sua promozione a dirigente e ottenuto lo scatto di livello mancava a questo punto solo il passaggio di ruolo. Ancora una volta il dottor Grazioli che poi è passato come commissario straordinario all'ASL di Sondrio ha fatto pressioni almeno questo si legge per il passaggio di ruolo della dottoressa. Il direttore generale a questo punto ha provveduto in tempi celeri ad inserire in un momento di spendi review nel piano assunzioni un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno per un ruolo che agli effetti è durato solo 60 giorni. Quando è stato intervistato il direttore generale si era giustificato anche dicendo che era un ruolo che solo quella persona era talmente importante e solo quella persona poteva ricoprire. Cosa che oggi invece ruolo che è stato ripartito su diversi dirigenti della stessa azienda quindi a questo punto non pare che sia veramente così importante questa persona per quel ruolo così fondamentale. Ricordo anche che lo stesso direttore generale è stato al centro di un caso di un bando nell'agosto 2011 che è stato pubblicato per sette posti a tempo determinato per 12 mesi che non aveva una data di chiusura e si è scoperto dopo grazie alla pubblicazione della graduatoria dell'ospedale che la chiusura risaliva a un tempo precedente. Quindi un bando pubblicato senza mettere nel luogo dove si svolgeranno le selezioni e nella data di chiusura del bando. C'è una cosa completamente fuori da ogni regola, fuori da ogni norma. Detto questo quello che noi chiediamo e quello che io chiedo è quali sono le valutazioni che ha fatto l'assessorato per la riconferma dello stesso direttore generale visto che la riconferma era il 31 12 2013 per i successivi due anni a scadenza del 31 12 2015 del contratto. visto che c'è stata una palese violazione di una norma e c'erano già stati dei problemi relativi a un bando anche del 2011 e se non si ritiene che un fatto così grave oltre a quelli già precedentemente descritti possano portare a un recesso o una rivalutazione del ruolo del dirigente stesso. Grazie, la parola per la replica al Vicepresidente Mantovani. Presidente mi scuso ma avrò necessità di qualche minuto in più perché sono accuse palesi e credo che sia necessario dare risposte adeguate. Con riferimento all'oggetto, lato di sindacato, si precisa che relativamente alla dottoressa Stigliano Anna Maria Stefania si precisa che è stata assunta il 27 dicembre del 2010 in qualità di dirigente amministrativo a tempo determinato per ricoprire alcune funzioni rimaste vacanti di due dirigenti amministrativi andati in pensione. Infatti, nel periodo antecedente al suo arrivo nell'azienda erano presenti i due dirigenti con funzioni. Uno, direzione amministrativa di presidio con coordinamento e controllo sulle attività amministrative svolte presso gli stabilimenti ospedalieri garantendo la migliore integrazione dei processi tecnico-amministrativi di rilievo interdipartimentale. In particolar modo, gestione del personale amministrativo di riferimento, razionalizzazione delle relative procedure amministrative, formazione e aggiornamento del personale amministrativo, supervisione del funzionamento delle casse ambulatoriali operanti in ospedale. Il secondo dirigente amministrativo, responsabile dell'ufficio economato, che in sintesi svolgeva le attività relative alla gestione della cassa economale, della direzione esecutiva dei contratti, la gestione dei magazzini economali e degli inventari. Con il collocamento a riposo delle suddette figure, l'azienda si è trovata nell'impossibilità di far fronte con risorse interne per la gestione delle relative attività. Si è reso necessario, pertanto, la riorganizzazione di alcuni servizi, nonché il necessario reclutamento dall'esterno di una figura dirigenziale. A seguito di emissioni di avviso pubblico, per titoli e colloquio di dirigente amministrativo a tempo determinato, di cui alla delibera 1103 del 22-12-2010, è stato conferito alla dottoressa Stigliano il relativo incarico, assegnandole in sintesi le seguenti funzioni. Gestione del fondo economale, gestione appalti e direzione esecutiva dei contratti, magazzini economali di Treviglio, tenute e gestione degli inventari, gestione e accettazione amministrativa degli ospedali di Treviglio, gestione e attività di centralino portineria autisti, gestione e liquidazione fatture. Con la DGR 30 gennaio 2013 è stato approvato il POA dell'azienda ospedaliera, di cui alla delibera 944 del 14-11-2012, con il quale sono state puntualmente articolate le funzioni dell'ufficio servizi alberghieri e di supporto diretto dalla dottoressa Stigliano. Il 1 dicembre 2013 è avvenuto il passaggio in ruolo, reso possibile perché, nell'ambito della proposta del Piano Assunzione 2013 del maggio 2013, sono stati inseriti due posti di dirigente amministrativo successivamente autorizzati da Regione Lombardia. La stessa risultava poi collocata utilmente nella graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di dirigente amministrativo presso la SC Gestione e Acquisizione Risorse e Logistica dalla Fondazione IRCS Policlinico San Matteo di Pavia, pubblicata sul BURL ai concorsi del 30 maggio 2012. Valutato che l'utilizzo di una graduatoria di altro ente trova giustificazione nella ratio delle norme regolatrici del rapporto di pubblico impiego, non sia ricorsi alla procedura di mobilità perché non garantiva una tempestiva individuazione di un candidato avendo solide quanto comprovate esperienze e capacità sia in campo professionale che organizzativo che gestionale in grado di rispondere alle esigenze dell'azienda. In merito si è tenuto anche conto della possibilità di non attivare la mobilità volontaria ex articolo 30 2 bis decreto legge 165 2001 facendo riferimento alla sentenza del TAR Toscana numero 1212 del luglio 2009 in cui si precisava che tale principio non è da considerarsi inderogabile, vedi allegati. In particolare si è tenuto conto nell'interesse pubblico della professionalità che nell'azienda ospedaliera la dirigente ha dimostrato nonché della buona esperienza e capacità nella gestione dei compiti affidati. L'importanza del lavoro svolto dalla dirigente trova peraltro giustificazione nel fatto che le sue attività sono state ripartite immediatamente ma temporaneamente tra gli altri dirigenti. È volontà dell'azione ospedaliera infatti procedere alla ricerca di una figura con equivalente professionalità. In merito all'articolo pubblicato sul giornale di Treviglio del marzo 2014 in cui Andrea Selogni, CGL Funzione Pubblica, precisa quanto segue. Le assunzioni nel comparto amministrativo sono riferite a regolari avvisi a tempo determinato per la sostituzione di personale assente a vario titolo nei diversi uffici. Due, in merito alla presunta carenza di organico del comparto sanitario, si precisa che il fabbisogno di personale stabilito dalla Regione Lombardia e fornito alle organizzazioni sindacali fotografa la mancanza di 72 infermieri dipendenti spesso sostituiti ricorrendo a contratti interinali. Rettorativamente al bando per l'assunzione dei sette impiegati a tempo determinato si precisa che con provvedimento 663 dell'1.7.2011 era stato emanato un avviso pubblico recante emissioni avviso pubblico per titoli prova pratica colloquio per numero 1 in carico a tempo determinato di mesi 12 quale coadiutore amministrativo esperto categoria B livello BS un rapporto di lavoro a tempo pieno in conformità al DPR 220 2011 che è il regolamento recante alla disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale. Nella premessa della deliberazione era stata rilevata la necessità di garantire la continuità dell'attività del settore amministrativo dell'azienda con indicati riferimenti normativi nonché in allegato il bando stesso come indicato in quest'ultimo il termine perentorio per la presentazione delle domande era fissato per le ore 12 del giorno 15 luglio 2011 in conformità all'indirizzo operativo in vigore presso la scrivente azienda ospedaliera erano pervenute le domande di 23 candidati la nomina della commissione era stata fatta nel rispetto del DPR 273 2001-220 articolo 6,1 nomina delle commissioni l'azienda ospedaliera dopo la scadenza del bando di concorso nomina la commissione esaminatrice articolo 28,1 le commissioni esaminatrici nominate dal direttore generale dell'azienda ospedaliera erano composte quindi dal presidente e da due componenti e dal segretario concludo l'attribuzione del rapporto di lavoro avvenuta a seguito di valutazione dei titoli presentati dal candidato e dal sostenimento di una prova pratica colloquio inerente alla disciplina il punteggio del colloquio è stato attribuito in base allo standing del candidato alla proprietà del linguaggio mostrata dallo stesso durante l'esposizione dell'argomento oggi oggetto dell'intervista alle conoscenze tecniche di cui l'esaminando ha dato prova suffragate della sicurezza e prontezza di risposta alle capacità di effettuare collegamenti logici e interdisciplinari tra la materia della privacy e da altri ambiti normativi afferenti alla posizione lavorativa da coprire l'iter seguito è stato esaminato dal collegio sindacale nella seduta del 99 2011 e dalla regione stessa convenendo che l'azienda aveva adempiuto regolarmente allo svolgimento di tutte le formalità grazie un po' lunga la replica ma la risposta dell'assessore ma chiara il consigliere Violi in realtà non mi è parsa molto chiara si parla di un piano di assunzioni 2013 previsto a maggio e si dice che a dicembre non c'erano i tempi per fare un bando se si è fatto un piano di assunzioni inserimento di due posizioni si poteva anche prevedere fare un bando e a dicembre ci sarebbe stato l'inserimento ruolo talmente importante che oggi dobbiamo rifare un nuovo bando che non è stato fatto per stabilizzare una persona e farla diventare di ruolo questo mi pare sinceramente dai fatti abbastanza evidente e anche abbastanza scandaloso dopodiché sulla questione invece relativa al 2011 e relativa nella fattispecie ai sette posti il bando non aveva una chiusura tant'è che nella nota del 3 di agosto si dice che il bando era chiuso il 15 di luglio mi pare una cosa abbastanza assurda è vero che è stato pubblicato il bando è vero che è stata data evidenza al bando è vero altresì che non c'era la data di chiusura che è stata comunicata quando dopo che il bando era già stato chiuso oltre al fatto che questa è una valutazione personale ma viene fatta anche sulle cronache dei vari giornali tra i sette fortunati ci sono la cantante del gruppo del presidente Maroni e un concittadino di Broni del direttore generale Broni non è proprio attaccato e collegato a Treviglio quindi le cose sono abbastanza sospette diciamo così non siamo assolutamente soddisfatti della risposta grazie 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 grazie